Il femminicidio purtroppo e la violenza domestica è una violenza nascosta che si attua nel chiuso delle case e che soprattutto al sud non viene assolutamente denunciata. Quindi a fronte di circa 200 vittime l'anno noi abbiamo qualcosa come oltre 3 milioni di donne che in qualche modo subiscono violenza e di questi dati del sud purtroppo non abbiamo lettura perché mancano le denunce. Ricorre oggi la giornata internazionale proclamata dalle Nazioni Unite per l'eliminazione della violenza sulle donne. A Napoli, nell'ambito delle iniziative organizzate dal Comune, la consulta delle lette ha promosso con il Consolato americano la campagna Lui per lei, un ponte tra Napoli e New York per combattere le disuguaglianze di genere. Una campagna di sensibilizzazione che parte a New York con Emma Watson che è la nuova ambasciatrice per le Nazioni Unite delle Pari Opportunità ha uno scopo ben preciso. In primo luogo quello di coinvolgere gli uomini e di chiedere agli uomini di impegnarsi in prima linea accanto alle donne per combattere le disuguaglianze di genere e in particolare la violenza contro le donne. Ma in secondo luogo è quella di coinvolgere gli uomini famosi, coloro che vivono sotto i riflettori e che oggi, in una crisi delle istituzioni tradizionali, pensiamo alla scuola, alla famiglia, riescono probabilmente più dell'istituzione stessa a raggiungere la mente e il cuore dei ragazzi. È molto importante di pensare che questo problema, che questa tragedia è una cosa che colpisce a donne in tutto il mondo e per questo noi insieme, paesi e cittadini, uomini e donne, dobbiamo tentare di trovare una soluzione. Il 25 novembre tutto l'anno è oggi per noi un'occasione per ribadire che i problemi devono essere nominati in modo da trovare presto una soluzione. Presentata nell'Aloa Consiliare di Via Verdi, dove è stato proiettato il cortometraggio Il Rimorso del regista Lorenzo Muscoso, la campagna ha raccolto l'adesione di numerosi personaggi del mondo della cultura e delle arti che hanno prestato il proprio volto per dire basta alla violenza sulle donne. Bisogna anche rendersi conto del significato politico di questo fenomeno perché credo sia abbastanza evidente che a prescindere dalle reazioni individuali, dai complessi individuali di alcuni maschi, tutto questo si inquadra in una visione del mondo in cui sta crollando il vecchio sistema verticale del potere. La donna è quel punto più basso su cui ricade tutto il peso del potere e credo quindi che la lotta per la difesa della donna sia soprattutto una lotta per la democrazia. Trovo che sia proprio una cosa brutta, io non so neanche quanti termini vorrei usare per dire come si permette un uomo di picchiare una donna, è una cosa inconcepibile, nella mia vita, ne ho di anni, non mi sono mai permesso di dare uno schiaffo a una donna, perché anche se qualche volta in una lite può succedere che uno gli scappa, ma perché? Siamo degli esseri umani, abbiamo un cervello, non bisogna mai farlo. Ovviamente ma è più violenza e basta, ma è più violenza contro i deboli direi, e direi anche che la violenza sulle donne sia un'espressione di un disagio sociale, quindi non va vista come una serie di episodi slegati, ma come un evento che esprime una condizione sociale sia di chi compie la violenza che di chi la subisce, che è intollerabile ormai. Grazie. 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 Grazie.